Sabian AAX Studio Crash 14 pollici 738 grammi Diagramissima Grazie a tutti. Grazie a tutti. AX Studio Crash 14 pollici, piatto professionale in lega B20 di Casa Sebian, dà le tonalità chiare, molto esplosivo, un buon attacco, un buon volume, anche se è un 14, però d'altra parte è anche un decadimento rapido. È un piatto molto controllato secondo me. Non ho avuto delle buone impressioni su questo piatto perché è molto difficile capire dove poterlo utilizzare. Di solito consiglio 14 pollici o per accenti o come crash principale qualora tu avessi un kit ridotto, tipo un cassa 16 o un cassa 18, che usi appunto nei locali piccoli. Essendo molto controllato secondo me come primo crash non va molto bene. È meglio un UFIP class che ha un pochettino un po' di coda, un po' più aperto e quindi riesce a dare quell'impressione di crash. Questo essendo molto controllato come primo crash non dà quell'idea. Più che altro può trovare spazio in quei setup molto estesi, quindi ci sono già dei piatti che fanno da padrone un 16, un 18 e quindi un 14, quelle due o tre volte che lo devi suonare all'interno del brano, può fare al caso tuo. Quindi è un piatto diciamo di minore importanza all'interno del setup e che se ti piace il suono appunto sai tu dove poter collocare questo suono nei tuoi brani. Non peraltro si chiama studio crash e quindi credo che è stato fatto per gli studi di registrazione, per avere un suono un po' più asciutto e quindi non avere tanto riverberi. Questo che sto provando ha il logo di Emergenza Rock Festival a dimostrazione che è stato suonato appunto in questo evento musicale. Link in descrizione, ti metto l'UFIP class da 14 pollici così ti puoi ascoltare un po' la differenza sonora e ti metto anche il compagno il 15 sempre studio crash così sai anche una misura più grande come potrebbe suonare. Iscriviti al gruppo Facebook Batteristi Garantiti sui soliti canali Instagram, Youtube su Scegliere la batteria. Attiva le notifiche e ci vediamo alla prossima. Ciao!